salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti come avevamo annunciato in un nostro precedente video si è tenuta la manifestazione per l'aumento delle pensioni minime con la richiesta di portarle a 1000 euro vediamo tutti i dettagli in questo video prima di visionare il video come sempre vi invito ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale naturalmente tutto gratuito si è tenuta ad enna la manifestazione dei pensionati di fratelli d'italia organizzata dal responsabile per la sicilio orientale gigi pastorelli ecco le sue parole durante la manifestazione per rilanciare l'aumento delle pensioni minime in un'epoca di dispersione dei valori e di perdita dei punti di riferimento l'anziano rappresenta il sapiente il tenutario del baluardo identitario il depositario della cultura solidale e sociale dare visibilità ai nostri pensionati significa dare un grande segnale di civiltà a una società che ha la continua ricerca di autenticità i pensionati debbono essere visti come una risorsa del paese e non come una zavorra e bisogna dare loro una dignità anche dal punto di vista economico ecco pertanto la nostra proposta di elevare le pensioni minime a 1000 euro come riporta il sito dedalo multimedia per fratelli d'italia le proposte da portare avanti sono anche dividere la previdenza dell'assistenza lasciare invariate le pensioni di reversibilità nella sanità corsi e preferenziali per gli over 65 per visite specialistiche ed odontoiatriche inoltre l'anziano è una risorsa per la società e quindi va valorizzato per esempio si potrebbero utilizzare gli anziani per la vigilanza davanti alle scuole elementari e medie inferiori nei musei nei giardini pubblici o come volontariato negli ospedali e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti grazie per l'attenzione al prossimo video